Ciao a tutti, sono Coravalli Bijou e vi volevo far vedere l'ultimo album che ho realizzato. Questa è una richiesta per una signora che piace molto i colori di Allokiti, gli piace Allokiti, quindi i toni di viola, rosa e così via. Queste sono roselline che ho fatto io a uncinetto, come al solito. Anzi, mi ha aiutato anche una mia amica. Qui ho messo un portatag, quindi una taschina. Queste sono fiori fatte con le perle. Qui c'è una tag e un post dove inserirlo. Questa è sempre una taschina e questo l'ho fatto con la Big Shot e l'ho fatto con l'embosser, sempre con la Big Shot e in più ho fatto questo con l'embosser a caldo. Questa anche questa con la Big Shot. Ci ho messo anche degli strass. Questo è un braccialettino di Allokiti, che dove l'ho inserito. Anche questo con la Big Shot. Questi sono fiori di gomma crepla. Anche qui c'è uno scomparto, una taschina e qui ho messo uno sticker di Allokiti, qui pure. Questo è sempre un altro fiore di gomma crepla. Poi qui ho messo una scritta con degli strass e una tag. Qui ho fatto due taschine. Qui ho fatto un portafoto. Qui si infiela una foto. Poi si può scegliere, lo metterò qua o qui. Questo è un fiore che tira fuori, c'è una tag. Questo fiore l'ho fatto io con la Slice. Questa è una farfalla con la Big Shot. Poi qui. Sempre con gli strassi. Questa invece c'è un'altra tag, un'altra tasca con la tag. Ma questo fiore invece l'ho comprato. E qua per ultimo c'è sempre uno sticker di Allokiti. E questo è l'album. Ah, l'ho messo qui, l'ho fatto con le aspirali e le ho messe con la Bind It All. Qui l'ho messo un altro fisso. E questo è l'album finito per la signora. Spero che vi sia piaciuto. Ah, lei è la mia gattina. È Minoum, ve la presento. Spero che vi sia piaciuto. Se volete delle info o anche per richieste, mandatemi un'e-mail. Ciao, alla prossima.